Il tessuto urbanistico di Teggiano non era mai stato differenziato con un regolare atto che indicasse le frazioni e le vie del territorio comunale. Una situazione che crea tuttora notevole confusione sulle reali indicazioni delle strade con l'assenza spesso anche di numeri civici identificativi. La giunta comunale guidata dal sindaco Michele Di Candia lo scorso primo marzo ha deciso di dare una svolta a questa situazione di confusione partendo dalla stipulazione di un atto ufficiale in cui vengono definitivamente indicate le frazioni del comune e le strade afferenti a ciascuna frazione. Un primo passo che dovrebbe portare, si spera a breve, anche alla realizzazione della numerazione civica al momento assente. Nella delibera di giunta pubblicata sull'albo pretorio del comune si legge come l'unico atto che testimoni la divisione del territorio in frazioni sia lo statuto comunale del 1991 in cui al comma 1 si legge il comune di Teggiano è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle località di Teggiano Centro Storico, Pantano, Prato Perillo, San Marco e Piedimonte che hanno caratteristiche di centri abitati e al comma 2 capoluogo e sede degli organi comunali sono siti nel centro storico. Oltre a tale documento non vi è esistenza di un atto che ufficializzi la divisione del territorio ed ecco quindi che l'amministrazione di Candi ha emesso l'atto che è il primo passo di un progetto approvato nel novembre del 2018 per la numerazione civica esterna e toponomastica del territorio comunale. La delibera di giunta comunale conferma la suddivisione del territorio nelle 5 frazioni di Centro Storico, Pantano, Piedimonte, Prato Perillo e San Marco per un totale di 247 trastrade e piazze che a breve potrebbero finalmente avere una propria numerazione civica.